Buongiorno Gianmarco. Buongiorno. Quanti anni hai? 19. E tu tutte le mattine arrivi a quest'ora? Eh sì, tutte le mattine, a volte anche per un po' prima, sì. Io sono Claudio, ho 22 anni. Che ore ti svegli? 3, 50, 4, più o meno. Io sono Laura, io ho 22 anni. Quanto è disordinata la vita di uno che si sveglia tutte le mattine alle 4? Tanto. Questo è un panificio storico che nasce più di 130 anni fa. Siamo in 16, in azienda. Gli ultimi due anni mi hanno servito dentro questi sei ragazzi, oscillano dai 20 ai 26 anni. Generazione Z li chiamano. Generazione Z, ecco. Quando ci siamo trovati a dover integrare personale, io ho detto a mio papà proviamo a cercare gente della mia età o addirittura più piccola per un po' in senso buono plasmare la persona in base alle esigenze del negozio. E con i ragazzi abbiamo notato che funzionava. È vero che la vostra generazione è una generazione non molto abituata a lavorare. Sono dei ragazzi che hanno voglia di fare come quelli che non hanno voglia di fare niente. Ma penso come tutte le generazioni, non è proprio la nostra in primis. Da quando ho finito scuola volevo subito cercare un lavoro per avere una mia autonomia. Posso chiederti quanto guadagno? Il 1.400, il 1.500. Non costano meno i giovani? Ma no, non costano, non dobbiamo sfruttarli ecco. Anzi, dobbiamo trasmettere a loro la nostra passione, il nostro lavoro e creare futuro per la nostra categoria attraverso i giovani.